La Corte d'Appello ha dato l'ok alla revisione del processo. Erba si torna in campo per scrivere la verità. Ci sono molti elementi a favore della innocenza di Olinda Rosa e ce n'è qualcuno a favore della loro colpevolezza. Ma quello che è certo è che il processo, per come sono state messe sulle prove, è stato vergognoso, è stato una farsa. È stata una vera e propria violenza al concetto di giustizia. Evidentemente pensano che il popolo è fatto di caproni stupidi. Finalmente si vedrà davvero, se Rosa e Olindo sono colpevoli o innocenti. La Corte d'Appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la prima udienza del processo di revisione sulla strage di Erba. I due coniugi erano già stati condannati all'ergastolo nel primo processo e l'udienza è stata fissata per il primo marzo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare! Ehi, non dimenticare! Edermetalliter